Ciao a tutti, ciao a tutte. Allora qua vedete la bag omaggio che è stata inserita nel mio pacco che ho appena ordinato e che è arrivato oggi. Allora questa bag era nel libro dei segreti e bastava avere 20 euro di ordine e regalavano questa piccola bag. Allora in questa bag c'è una mini palette tutta nude, molto carina, molto cari, i colori sono molto belli, sempre revolution. Poi c'è questa cipria di quelli trasparenti, uno smaltino che è bellissimo e un eyeliner di quelli brillantinato, glitterato, brillantinato. Ok, questo sono tutti gli omaggi dentro a questa piccola bag. Grazie a tutte, poi farò un altro video che vi faccio vedere le palette. delle interessate. Grazie.